La storia di oggi arriva alla sera dopo un'altra giornata dura, complicata, una di quelle giornate in cui si vanno a cercare i grandi autori, quelli del cuore, che nelle loro pagine e con le loro parole sono capaci di dare conforto. Ed è dedicata a uno sport letterario, il ciclismo, che tanto amava il nostro compianto Gianni Mura e che ha visto raccontare di sé penne straordinarie, come Dino Buzzati. Dino Buzzati venne inviato dal Corriere della Sera al giro del 49 per dei reportage quotidiani e mi piace pensare che il Giro d'Italia potrebbe rappresentare quest'anno, quando si capirà, quando poterlo organizzare, un meraviglioso punto di ripartenza di questo paese. E allora vi regalo queste pagine che sono in uno dei reportage di Dino Buzzati che in avvicinamento con il resto della caravana all'inizio del giro arriva con un traghetto in Sicilia e osserva, osserva i campioni, osserva i gregari, osserva gli uomini che fanno vivere quella caravana meravigliosa e si concentra su uno. Uno c'è infine che si lamenta tutto il santo giorno e impreca alla maledettissima volta che ha accettato di venire anche quest'anno al giro. E già prevede strapazzi infami, pioggia, disagi, cimici negli alberghi, raffreddori e giura che siccome manca un certo corridore la corsa non ha il minimo interesse, che tanto valeva non farla e che la gente se ne infischia. Negli momenti peggiori garantisce perfino che il ciclismo è morto, morto e seppellito, che dei campioni si è persa la semenza, che nel secolo dell'atomica la pedivella è un ferravecchio da museo e che ostinarsi a tenere su questa baracca è ridicolo. Ma io lo guardo e sui 45 anni, forzuto, come sempre, in atto di parare qualche improvviso assalto. La faccia un po' da mastino, dura però simpatica. Da un giorno lo osservo attentamente. Non ho capito bene se sia un direttore sportivo, un tecnico, un capo meccanico o un massaggiatore di qualche squadra. Brontola, soghigna, vede tutto nero, si affanna correndo da una parte all'altra come se qualcosa stesse sempre per precipitare. Suda, impreca, fuma fino a tardanotte. Si manterrà così, presumo, finché sarà terminato il giro. Uno spostato, viene di fatto di pensare. Uno costretto a lavorare a contraggenio in un ambiente a lui odioso. Tale, a prima vista. Ma poi ho cambiato idea. L'osservo adesso quando Mugugna e se ne va intorno con quel sofare imbronciato da bulldog e l'osservo con grande piacere e mi domando da quanto tempo non vedevo un uomo così felice.